Ragazzi, volevo farne avuto tranquilla, ma guardate qua davanti chi è spawnato, un bellissimo Charizard boss leggendario, ma non solo, nella versione Ypsilon, la mega pietra che ancora non abbiamo di Charizard, quindi come prima cosa voglio andare assolutamente a curare la mia squadra Pokémon, la squadra che sto utilizzando per riempire l'orb che ci darà la possibilità di spawnare Moltres, avete capito? Molto bene ragazzi, manca poco per completare l'orb, per terminare e per eliminare tutti quanti i Pokémon che servono, ma in questo momento voglio eliminare questo Charizard, perché è assolutamente importante che noi otteniamo la mega pietra che ci darà la possibilità magari di evolvere il nostro Charizard Shiny in un mega Charizard Shiny Ypsilon, quindi campioncini benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio della Pixelmon, utilizziamo Stone Edge e Tyranitar che è un Pokémon fondamentale in questa battaglia Per eliminare questo Charizard, anche se si sta comportando molto bene a livello di forza, ma curiamo il nostro Tyranitar che ci servirà tantissimo in questa battaglia e tecnicamente utilizzando tutte le nostre potion, le max potion dovremmo portare a casa la battaglia senza utilizzare il resto della nostra squadra Vedete come si è messi molto bene comunque appunto a livello di team, ottimo ragazzi, ovviamente il nostro Tyranitar comunque ci ha abbandonato, ma, ma vediamo se magari con, no eh, con i nostri Pokémon non credo di riuscire a farcela Forse con il nostro Green Ninja e con l'idropompa lo ha shottato Ciao Charizard, livello 112 mega eliminato, e dov'è la mia mega pietra ragazzi? Aiuto! Ma me l'ha droppata lo stesso! Va bene ragazzi, non lo so, è un po' buggata anche questa Pixelmon, è impossibile che facciano una versione non buggata Ma comunque, raccogliamo tutte le mega pietre, e abbiamo fatto anche un po' di achievement molto bene, e andiamo a prendere i nostri due Charizard Uno è assolutamente da potenziare ragazzi, ma oggi non mi soffermerei solamente su di loro, perché ragazzi, ho aggiornato la mia Pixelmon e appunto ho sbloccato i nuovi starter No, sicuramente la mega pietra non va a lui, ma va a lui, dicevo, ho sbloccato i nuovi starter della nona generazione che sono Sbrigadito, che è lo starter con il nome peggiore che hanno mai creato Fuokeco e Quaxili, e qua sotto nei commenti vorrei che mi scriviate qual è il vostro starter di nona generazione preferito Adesso è onesto ragazzi, il mio è Fuekoco, però ditemi voi qua sotto nei commenti qual è il vostro Adesso potenziamo il mio Charizard Shiny ragazzi, perché voglio che si potenzi, perché non posso pagare il costo di questo miglioramento? Vabbè, facciamo una cosa, non so perché la Pixelmon non mi faccia potenziare il mio Charizard, anche se ho dato le Pokéball che volevano Ma con noi abbiamo veramente tante mosse, tanti moveset da insegnarli, quindi abbiamo Heatwave, abbiamo Flare Blitz, abbiamo da qualche altra parte, se non mi sbaglio anche Earthquake, che ci può interessare veramente tanto, oltre che a Dragon Pulse Earthquake dovremmo avere appunto qua dentro, quindi già in realtà riusciamo a migliorare di molto le mosse del mio Charizard Soprattutto perché a me che è voluto, ragazzi, servono anche delle mosse belle potenti a lui da dare Quindi togliamo Slash e diamogli subito Earthquake, poi diamo Flare Blitz al posto di Firefang Togliamo anche come mossa Growl e mettiamo anche Heatwave, che è un'ottima mossa da dare al posto di Smokescreen Almeno il nostro Charizard Shiny con la sua Mega Pietra è un ottimo Charizard, ma non solo diamo anche un po' di caramelle rare Almeno lo potenziamo per bene e lo rendiamo un Charizard molto potente Non abbiamo però ancora analizzato le sue statistiche, ragazzi, quindi diamo qua Stats e ha la mossa di attacco speciale, diciamo, bassa E come statistica alta la difesa speciale ha un'ottima velocità, ma voi qua sotto nei commenti mi direte se è un Charizard per cui vale la pena tenere all'interno della propria squadra Comunque, direi che è un ottimo, ottimo Charizard, ma nell'episodio di oggi andiamo nell'esplorazione Con noi abbiamo abbastanza Ball, tra 26 Ultra Ball e 58 Dusk Ball E nello scorso episodio abbiamo trovato lei, la Master Ball, ragazzi Una Ball fondamentale per le catture future Ora, andiamo direi a Banette, epico, questo da sfidare con il nostro nuovo Charizard Andiamo, dicevo, nella zona di Xiao, cioè nella Dark Forest Perché lì voglio sperare che arrivi un Rayquaza, ragazzi Ma comunque, mega evolviamo il nostro Charizard Shiny nel bellissimo Mega Charizard Y Shiny Così, magari, dicevo, speriamo che spawni Rayquaza Stiamo in quelle zone perché tecnicamente, appunto, a quella parte del mondo dovrebbero spawnare anche i nuovi starter Ma secondo me questo Banette qua, ragazzi, mi distruggerà il mio Charizard Ma come notiamo, comunque è un Charizard bellissimo, ragazzi È clamorosamente bello Peccato che io non riesca a farlo vedere molto bene Spero che un pochino si veda Ma eccolo qua Mamma mia, che figata di Charizard Però questo Banette, comunque, ragazzi, ce lo distruggerà molto, molto, molto In modo molto cattivo Adesso mettiamo in campo il nostro vero Charizard Con Solar Beam Vediamo se riusciamo a fargli un bel po' di danno No, non ce l'abbiamo fatto Soprattutto perché Solar Beam attacca solo al primo round, solo 6 Mega Evoluto Quindi ho fatto un po' una cavolata, ragazzi Ma non pensiamoci Andiamo di Earthquake con questo Groudon Che dovrebbe togliergli un bel po' Infatti li abbiamo tolto un bel po', ragazzi Ci ha tolto anche lui tanto di vita, ragazzi Ma dovrei bastare per un altro attacco E infatti, bravo Groudon Hai distrutto questo Banette Complimenti a un Pokémon fortissimo, Groudon Prendiamo la Banettite, un'altra Dynamax Candy e una Gas Tier Il resto lo droppiamo E andiamo in esplorazione per davvero questa volta Prima di tutto, voglio stare in questa zona Perché abbiamo farmato tantissimi soldi nello scorso episodio Durante la battaglia con Kendall Questa è la zona PC Quindi voglio curare i miei Pokémon Invece nella zona Market abbiamo tantissime monete appunto da spendere Quindi, andiamo qua da questo Non so come definire shopkeeper Per vedere se è lui che vende No, lui non vende tante cure Però vende delle iperpozioni Che voglio comprare più che vuole interi Dato che abbiamo tanti soldi Ne compriamo 8 Molto bene Questo shopkeeper qua dovrebbe avere a disposizione invece I Revive Che sono veramente fondamentali per le nostre battaglie Qua ne compro una quindicina ragazzi Questi sono super importanti per noi Per curare la nostra squadra Pokémon Fiuuuu Qua è spawnato uno Zama Zenta Questo ragazzi è da sfidare però Con un nostro Pokémon leggendario Lugia o Groudon Dai andiamo di Groudon Perché voglio sfidare questo ride leggendario Però i Pokémon che sono con noi in battaglia Fanno un po' ridere ragazzi Perché abbiamo un Mudbray Abbiamo un Toggepi e un Tarko Ma perché ragazzi Va bene Ma niente Andiamo direttamente qua in battaglia Contro questo Zama Zenta Andiamo di Earthquake Lo so colpiamo tanti Pokémon ragazzi Ma le abbiamo tolto comunque quasi il 20% di vita Quindi colpiamolo L'istante ho detto tantissimo Stavo per dire che Dannazione non aveva attivato il suo scudo Ma l'ho attivato invece Eh peccato 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 Vai Groudon Io però credo in te Dobbiamo portare a casa questa battaglia Perché poi C'è anche la possibilità che se lo eliminiamo Riusciamo anche magari a poter catturarlo Questo Zama Zenta Vediamo se riusciamo a distruggere questo suo scudo Eh ragazzi Però io non posso tancare questa battaglia da solo Eh calma Cosa sta succedendo? Aiuto? Ma che diamine sta succedendo ragazzi? Non lo so Animazioni stranissime della Pixelmon Ti prego però Groudon Distruggi questo Zama Zenta Per favore No eh ragazzi Non sarà che qua stiamo tankando la battaglia completamente da soli Non ce l'abbiamo fatta ed è scappato Dannazione! Ci servirebbero dei compagni utili in questi raid Ma vabbè Dato che sto continuamente Praticamente essendo interrotto durante i miei discorsi C'evo che nella zona della Dark Forest Dovrebbero sponare due dei tre starter Che appunto siamo alla ricerca A cui appunto siamo alla ricerca Che sono Fuecoco E poi anche Quaxley Soprattutto nella zona qua dei river o dei mare Quindi voglio sperare che sponi un Rayquaza da un momento all'altro E anche magari un Quaxley Oppure un Fuecoco da qualche parte Questo non è assolutamente un Fuecoco Ma è un Teddy Ursa Cosa che non ci interessa in questo momento Uh! Fermi! Quello è un Fuecoco minuscolo! Sì è lui! A livello 11 E ma come lo proviamo a prendere ragazzi? Senza far la battaglia ovviamente Però andrei di Duskball Dato che è quasi notte ragazzi Quindi proviamo a prendere No Fuecoco Non mi devi rompere le scatole Tu ti devi far catturare Perché sei uno starter bellissimo E in più Non voglio sprecare tante Duskball Ma io voglio catturare tutti i miei Pokémon All'interno della Pixelmon Tutti quanti quelli che voglio Anzi Dovremmo cercare di catturare tutti quanti Eh! Però dato che siamo all'inizio serie ragazzi Dobbiamo cercare di prendere quelli più importanti Inizialmente Fuecoco per favore fatti prendere Non far troppe storie Perché ti voglio comunque prendere Vediamo Magari nel prossimo episodio ragazzi Se vi piace l'idea Potremmo pensare Di evolvere tutti quanti gli starter Nelle loro evoluzioni massime Vediamo però Preso! Preso Fuecoco Ora Dato che siamo qua Già vicino al river Vorrei vedere se riusciamo a trovare un Quaxley No non ci credo Uno a fianco e l'altro ragazzi Ottima come cosa Proviamo a prenderne entrambi Vediamo se riusciamo a prendere Sia Quaxley Che Fuecoco Vediamo Uh tre giri Aveva fatto Uh quattro giri Ma aveva fatto il quarto giro Ragazzi mi sbaglio Eh! Non so che bug è stato E soprattutto questa Duskball Così davanti alla faccia molto strana Però Quaxley fatti prendere per favore Che io ti voglio Ma continua a fare il quarto giro Sembra che mi freghi Ma in realtà poi esce Non lo so Mi pare un po' strana questa cosa qui Eh! Dai dai Su su Ancora tre giri Dannazione a te Preso Preso anche qua Quaxley Ottimo Due starter su tre presi Ora Non so dove diamine Spawni Il nostro piccolo Sprigatito Eh! Perché non dovrebbe spawnare La Dark Forest Ma credo nella zona della giungla Cosa che comunque Dobbiamo esplorare per bene Però io voglio restare In queste parti qua del mondo Perché dovrebbe spawnare Comunque il Rayquaza Prima o poi Quindi Attendiamole Vediamo se spawna per davvero Uh! Ragazzi! È spawnato per davvero Ma che diamine di Pokémon È un Raticate quello Ok? Ma è spawnato per davvero Rayquaza nella Dark Forest Ok C'è solo da cercarlo La Dark Forest è gigantesca Non è per nulla Semplice Devo salire su un Pokémon Tipo Charizard Io ho due Charizard Ragazzi Questa cosa qua è ignorante Uh! È lì davanti? Ma non deve neanche cercarlo Lì davanti Che mi sta aspettando Che figo! Adesso ragazzi Non ci può Scappare Perché con noi Abbiamo anche Una Master Ball Mamma che figo Che è però ragazzi È troppo bello Adesso Non dobbiamo fargli Troppo danno Quindi in realtà Questo Charizard Non è neanche il più Utile Per questa battaglia Ma voglio buttare In campo Greninja Che è un Pokémon Che anche lui è a 72 E lui è a 70 È un livello quindi Molto alto Dobbiamo fargli un bel po' di danno Ma non troppo Cioè non è che dobbiamo Insasciottarlo Anche Dark Pal È stato molto discoso Perché se avessi fatto un critico Lo avrei completamente eliminato Adesso Il nostro obiettivo Ragazzi È quello Di non utilizzare La Master Ball Da subito Ma nel caso Proprio Siamo costretti A utilizzarla La andremo a utilizzare Anche perché comunque È molto rara Da ottenere Nella Pixel Ma la Master Ball E ha fatto 3 giri Adesso Requaza Vedete comunque 3 giri Li ha fatti Al 22% di vita Avremo bisogno Di una mossa Come Falso Finale Ragazzi Cosa Che non è semplice Da avere Quindi Non è che possiamo Star qua Sempre a perfezione Tutti quanti Pokémon Quando riusciamo a farlo Ok Però purtroppo È una mossa Da avere anche La fortuna Da trovare Quindi Adesso Vediamo se Con le Ultra Ball O con le Dusk Ball Riusciamo a catturare Questo Requaza Questo Pokémon Che serve anche Durante la serie Perché se no Non possiamo sfidare La palestra Di Xiao E vediamo se Senza la Master Ball Riusciamo a fare qualcosa Nel caso Comunque Utilizzeremo la Master Ball Ora Ha fatto ancora 3 giri Ragazzi Questo Nostro Requaza Quindi C'è una possibilità Di non utilizzare La Master Ball Vediamo però Se riusciamo a farlo Un giro Eh no Non ce l'abbiamo fatta Ok ragazzi Nulla Andiamo ancora di Dusk Ball Vediamo se riusciamo un attimino A prendere Questo Pokémon Non dannazione Requaza Quanto è difficile Da prenderti Io poi lo voglio Mega Evolvere Ragazzi Quindi spero Che con sé Abbia Dragon Ascent Come mossa Perché se no È un gran Nero problema Quindi vediamo un attimino Se riusciamo a farlo Un giro Due giri di Dusk Ball Ragazzi Con calma Vediamo Se riusciamo a prenderlo Noi comunque abbiamo Una roba come 70 Ball Da poter utilizzare Oltre alla Master Ball Quindi possiamo stare qua Un bel po' Però Se vediamo che inizia Di mia rotta quanta La squadra Mi sento costretto A utilizzare la Master Ball E a sprecarla Anche se appunto Che mi ho detto all'inizio Non è per niente Uno spreco Però Avendo trovata da poco Volevo tenerla con me Un po' in squadra La mia Master Ball Non mi sta attaccando Però l'Ughia Va bene Vediamo cosa riusciamo a fare Ragazzi Vediamo Se siamo fortunati o meno Siamo ancora in piena notte Pixelmon Vorrei capire un attimo Sì siamo ancora in piena notte Quindi Le Dusk Ball Dovrebbero funzionare molto bene Ma mi ha sponato Anche un Pokémon Boss Cosa metto in campo? Mi ha già risarciato Dai Che comunque È un buon livello E vado di Dusk Ball Ancora Dai Sfruttiamoli fino a quando È piena notte Per vedere se riusciamo A catturare o meno Questo dannato Rayquaza Un giro Due giri Ancora due giri ragazzi Ancora due dannati giri Vediamo Dai Su Forza e coraggio Rayquaza Io credo in te No ragazzi Non scende neanche Non tocca neanche terra Alcune volte Va bene Dai Proviamo altre cinque Dusk Ball Poi Mi sento costretto ragazzi A utilizzare la Master Ball Vai Questa è andata Andiamo con la seconda Dusk Ball Vediamo con quale piccola probabilità Possiamo catturarlo E anzi Nei commenti Consigliatemi quale altre Ball Dovrei provare a craftare ragazzi Almeno Abbiamo più scelta Abbiamo più diciamo Utilizzi Abbiamo più possibilità Di provare a catturare Pokémon Con metodi diversi Vediamo però Adesso Il nostro Rayquaza Se intimidisce Rayquaza Ma non ce la facciamo Ultima Dusk Ball Ragazzi Proviamoci Ti prego Ti prego Per favore Rayquaza Vediamo Non vedo la Ball No è uscito Va bene Ragazzi È destino Dobbiamo Per forza Utilizzare La Master Ball Come prima volta Per la prima volta All'interno Possibilità Perché la versione Bellissima Tanto potente Tanto potente Mamma mia Che figata L'episodio di cattura E noi ci fermiamo qua Campioncini Ci salutiamo E ci vediamo In un prossimo video Ciao